Seconda giornata del meeting europeo Erasmus Plus Project presso l'Istituto Tecnico Economico Alighieri di Cerignola. La giornata di mercoledì è stata dedicata alla presentazione, nonché discussione, e pianificazione del progetto insieme a sei paesi partecipanti di cui la Turchia è capovila del progetto finanziato dall'Unione Europea. Le rappresentanze europee hanno poi avuto la possibilità in un momento di pausa dei lavori di poter visitare il plesso scolastico e di vedere le qualità della scuola ospitante. Giovedì visita fuori città visitando due realtà pugliesi, Alberobello, famosa per i trulli e patrimonio dell'UNESCO, e la città di Trani. Mimmo Siena, speciale news dall'Istituto Tecnico Economico Alighieri, Cerignola, Foggia.